Siamo con Luca Conti, blogger di pandemia e giornalista. In che maniera i social network contribuiscono alla sostenibilità sociale? In tanti modi, il web 2.0 è un po' la caratteristica del web che permette agli utenti di condividere informazioni e diffondere contenuti. In particolare per chi si occupa di sostenibilità o di mondo non profit, i social network sono il brodo di cultura nel quale vivere tutti i giorni. Oggi ancora questo è un mondo in cui si condividono prevalentemente contenuti di carattere ludico o dove le aziende cercano di interagire con i propri clienti. Io credo che nel prossimo futuro sarà un mondo sempre più popolato da associazioni che si occupano di sostenibilità, di ambiente, di sociale e lo useranno per aumentare il loro impatto non soltanto sul web ma anche nel mondo di tutti i giorni. Grazie mille Luca Conti. Grazie a voi.